Che vuoi fare? Che vuoi fare? Vuoi vedere il pesce che canta? Vuoi conoscere il pesce che canta? I learned how to get along and now I'm back, back on the flack. Don't look surprised that I'm still singing cause you know I have an act in you. Basta! Basta questa canzone! Stavo pensando se potessi fare quello pesce con il pesce. Tu devi mettere la minchia e il pesce con la minchia. Che vuoi fare? Le becate rosse? Ecco, giochiamo le becate rosse. Vuoi fare le becate rosse? Abitualmente resto marzo. Pure la bannetta da te puoi. Se già vuoi un pesce. Abitualmente resto marzo. Vuoi fare lo sbekistan? Qual è? Devo mettere pesce? Vuoi fare lo sbekistan? Io mi metto pesce. Io mi metto pesce. Come una famosa fotografia di rosse. Io mi metto pesce. Metto pesce e facciamo lo sbekistan. Non dico che sono la tromba con queste becate rosse. E io mi metto pesce. 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 Un pesce. Mi metto pesce. Le botanze. Se vedi le botanze. Assisionalisti, no? Si, se vedi le botanze. Insomma. Cosa facciamo? Due fototest evidenti. Che facciamo sbekistan. E ti anche hai capito. E' veramente. E' veramente surreale. Una situazione surreale. Non lo so. Possiamo... Non potevo fare niente. Non ho mai surreale. Le botanze si vede. Si vede le botanze. Assoluta la Coccherone. Non c'è niente. A Sabirica. Ah, io si è trapito. A Sabirica. Che facciamo frutti di vedere. Eh, già. Però il Genio Seloci è tornato. Questa è la Sicilia. Nei momenti in cui ne scalziamo amici tutto questo. Ritorna. Ritorna. Ritorna il Genio Seloci. Salutiamo. 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 Succa. 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 Dario Ebola. Fulvio Abate. Che schifo che facciamo. Te le due minuti.